buongiorno oggi vi mostreremo i passi da fare per l'acquisto delle vostre u-card entrate nella vostra dashboard andate in buy dopodiché in u-card poi una volta avete scelto le vostre u-card voi cliccate su in the shopping cart dopodiché andate nel vostro shopping cart nel vostro carrello e potrete per esempio annullare la scelta fatta se vi siete sbagliati oppure potete cambiare la quantità desiderata delle vostre u-card e se dovete acquistare altre u-card con importo diverso andate su buy other product e scegliete gli altri importi dopodiché una volta che avete scelto le vostre u-card avete scelto le vostre quantità andate in complete order una volta che voi avete scelto le vostre u-card voi potete scegliere la modalità di pagamento per esempio c'è bank transfer quella che vi consigliamo perché è più veloce più semplice poi c'è buyer o credit card per esempio con la quale praticamente vengono applicate delle commissioni pari al 3,5 per cento potete pagare in bitcoin o in usd coin però in questi tre modi voi dovete praticamente aprire anche un ticket al support dopo di che dovete accettare le condizioni e poi complete order una volta che l'ordine è stato concluso correttamente importante che nella casuale voi mettete solo un numero come vi è stato già detto sicuramente potete mettere il vostro codice di di accesso a riuscire però viene consigliato anche di mettere il numero della casuale quindi dovete mettere uno o l'altro dovete mettere soltanto un solo codice praticamente praticamente dopodiché l'iban che voi dovete prendere per il bonifico è il primo quello che vediamo qui appunto finisce per 777 e il suo codice swift se voi soprattutto se voi fate il vostro bonifico dall'estero è questo grazie per averci seguito e al prossimo video